Gradita la visita al Museo Dante Marrocco di Pietimonte Matese del maestro Mario Guarino, artista di origini napoletane ma milanese di adozione, autore di numerosissime opere che suone in tutto il mondo, a riceverlo il vice sindaco Bernarda De Girolamo, l'assessore alla cultura Loredana Cerrone, il dottor Attilio Costarella che ha fatto da Cicerone il presidente dell'associazione Matese in movimento Angelo Milo, con il docente di storie Armando Pepe, particolarmente gradito dal maestro l'incontro con i ragazzi del liceo artistico di Pietimonte Matese che lo hanno accolto improvvisando una sorta di estemporanei all'aperto con i quali poi il maestro si è intrattenuto e confrontato brevemente. La nostra Rossella Sasso ha raccolto le impressioni della visita del maestro e poi a seguire quelle del vice sindaco De Girolamo e l'assessore alla cultura Cerrone. Qual è l'impressione che le ha avuto di questo museo? Intanto più che impressione ho avuto la meraviglia di trovare un tesoro diciamo qui di un'epoca molto passata che ha radici profonde nell'arte, nella cultura e ho trovato anche piacevolmente delle persone che sono state e ancora lo sono, che si dedicano a quest'opera e quindi promulgano e diffondono anche quelle che sono le bellezze storiche e artistiche di questi posti perché è giusto che sia così. E invece qual è l'impressione che ha avuto dei ragazzi che si sono dilettati qui stamattina del liceo artistico qui nel Chiostro? Sì, praticamente i ragazzi sono sempre uguali a tutti quanti dove si trova la passione come questi qui che hanno questa voglia di imparare, di imparare le cose belle della vita e quindi l'arte promulgarla quando saranno grandi e quindi faranno anche a loro volta delle cose che farà piacere alla gente, all'ambiente e al mondo che li segue perché la cultura non è soltanto una cosa locale ma la cultura è come l'aria, va nel mondo. Preside, allora oggi una bella giornata. Beh, veramente è stata una bella mattinata grazie al professore Guarino che da Milano è venuto qui ad incontrare i ragazzi del nostro liceo artistico che si sono cimentati in questo splendido luogo a rappresentare un pochino le varie sfaccettature della nostra città, le sfaccettature che riguardano soprattutto la parte storico-artistico della nostra Piedimonte. Diciamo che è nato nel discutere, nel dialogare col professore Guarino anche un'idea è venuta ai nostri ragazzi e a me insieme all'assessore Cerrone di voler portare avanti dei percorsi di PCTO con i nostri ragazzi del liceo artistico e anche del liceo classico in modo che possano dare anche loro un contributo reale e concreto affinché questo luogo meraviglioso della nostra città possa essere ancora più bello e ancora più accogliente. Assessore, vediamo che le attività al museo sono riprese intensamente ci parli un po' di quello che è successo oggi? Sì, buongiorno. Oggi siamo qui con... abbiamo ricevuto il professore Guarino siamo onorati della sua presenza e soprattutto della richiesta di essere con noi di visitare il museo insieme agli studenti del liceo artistico, della quinta del liceo artistico abbiamo ultimato una settimana piena di impegni, di eventi una settimana, dobbiamo dire, di grande successo il Festival dell'identità ha visto in città, docenti universitari, storici l'arrivo e l'inaugurazione della mostra con l'esposizione del dipinto la flagelazione di Cristo che avrà qui... sarà in mostra a Piedimonte per ben tre mesi quindi per noi è iniziato un percorso di visite, di aperture straordinarie in questi giorni il museo rimane aperto fino alle 22 anzi è un appello, è un annuncio a tutti coloro che vorranno venire in visita è ritornata quella che viene definita l'identità territoriale, il corridore del CILA siamo onorati di questa testimonianza di gratificazione che abbiamo avuto come amministrazione e quindi il nostro percorso continua veramente intensamente